Previsioni del tempo per venerdì 13 novembre su Puglia, Basilicata e Molise. Situazione generale. Il tempo si presenterà ancora in prevalenza soleggiato sulle nostre tre regioni, a parte qualche innocuo annuvolamento lungo la dorsale tirrenica e qualche velatura o stratificazione in transito su coste e pianure del basso versante adriatico, temperature stazionarie o in lieve ascesa, venti deboli settentrionali, mari per lo più poco mossi o quasi calmi sotto costa. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. Il rinforzo dell'alta pressione porterà condizioni meteorologiche sulla regione stabili o per lo più soleggiate. Non si escludono tuttavia velature e stratificazioni in transito e nebbie, specie nelle ore più fredde della giornata. Temperature stazionare o in lieve ascesa, venti deboli settentrionali e rotazione serale dai quadranti meridionali, mari per lo più poco mossi o quasi calmi sotto costa. Grazie a tutti.